Sebbene l'assessore comunale a ramo continua a stentare sicurezza, sottolineando che sulla questione va tutto bene, continuiamo a ricevere segnalazioni che ci fanno comprendere che la situazione sia tutt'altro che tranquilla. Ancora una volta dunque denunciamo che sul fenomeno randaggismo occorre compiere passi concreti in avanti e che tutto questo lassismo sta generando problemi su problemi, una goccia dopo l'altra che rischiano di generare una cascata e a questo non dobbiamo arrivarci. Lo dice il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Sergio Firrinceli che riporta il documento ricevuto da alcuni residenti di una specifica area della città, i quali affermano da circa due settimane sulla strada comunale ex SP 116, con trada, patro e zone limitrofe fino all'elis superficie e zona delle antenne, un branco di cinque cani terrorizza persone a piedi e ha fatto e continua a fare carneficina di gatti da compagnia che si macchiano solo della colpa di compiere una passeggiata serale nei pressi delle loro case. Questi cani sono sicuramente frutto di una cucciolata che è stata abbandonata come spesso succede nella zona. Inutile proferire parole nei confronti di questa gentaglia che anziché sterilizzare i propri animali si preggia di farli accoppiare e poi abbandona i cuccioli che inevitabilmente diventano randaggi. Un discorso a parte va fatto all'amministrazione comunale, in particolare all'assessore Arramo, che dovrebbe porre argine e trovare soluzioni idonee a un problema di propria pertinenza e per il quale è pagato profumatamente dai cittadini iracusani. Ecco perché chiediamo a lui che effetti con chi di competenza un monitoraggio in zona e valuti come intervenire. La situazione sta davvero rischiando di sfuggire di mano e prima che accada all'irreparabile con crude firinceli è necessario trovare delle soluzioni adeguate.